Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, domenica che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, i sistemi nuvolosi atlantici rimangono ben lontani dal nostro paese, si cercano di sferare l'arco alpino ma non ce la fanno e quindi condizioni meteorologiche da piena estate. Se controlliamo infatti la nuvolosità del nostro paese vediamo che di nuvole ne passeranno ben poche, come vi dicevo qualcosa sfiora l'arco alpino ma senza conseguenze e allora anche precipitazioni nulla, non essendoci nuvole come potrebbe venire giù qualcosa, quindi come vedete a queste immagini non compaiono macchioline azzurre. Quindi giornata di sole in tutta Italia però rovescio della medaglia, gran caldo, temperature in ulteriore aumento, caldo in intensificazione, punte massime come vedete anche oltre 35 gradi all'ombra, al centro-sud nelle zone interne al sole toccheremo anche i 40 gradi, come se non bastasse salgono anche le temperature serali e notturne. Ci sarà da sudare, teniamo duro. Per tutte le taglie e comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.